La comunità mi dona la possibilità di vivere con altre persone a contatto con altre persone. Hai sempre a disposizione tutti i caratteri e tutte queste persone diverse che possono ispirarti continuamente in tante parti di noi a crescere. Secondo me vivere insieme dona il fatto che impari a condividere sempre e non a tenerti le cose solo per te. Per me la comunità è anche e soprattutto tanto umorismo, umorismo per riuscire a sopportarci amorevolmente e andare d'accordo. È l'unico modo per trovare delle parti nascoste dentro di sé. La possibilità di convivenza di tutte le differenze. Poi non ti annoi mai visto che c'è sempre qualcuno in casa con cui parlare e condividere.